Ma mi dica la verità, mi guardi negli occhi, da uomo a uomo. Che c'è? Lei, dico lei, prima persona, è proprio notaio, no? Come no? Sono notaio. Abusivo. Ma chi è abusivo? Lei è notaio. Sono notaio! Con la Laura? Con la laurea. Ma che? Laurea. Adesso si dice laurea? No, 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 si è sempre detto così. Appunto, si è sempre detto così. Si è sempre detto così, non laurea, laurea. E c'è l'ufficio, no? Un ufficio, un antichissimo ufficio, dal mio bisnonno. Con l'ufficio? Di padre, in figlio, siamo arrivati a me. Però, clienti... Si informi, si informi. Però, clienti... Affollatissimo, moltissimi clienti, si informi un po'. Chi è? Il notaio Cocozza. Cocozza? Cocozza. Ma io ho conosciuto il suo figlio. Mio figlio? Si, Cocoziello. No, no, non dica io. Non è suo figlio? Non è mio figlio perché non è mio figlio. Ci avrei giulato, signor.